Ministro, un altro problema irrisolto è sicuramente quello dei diplomati magistrali. Sono tanti, decine di migliaia, hanno subito due sentenze del Consiglio di Stato negative e rischiano di ritrovarsi in 7-8 mila addirittura assunti con anno di prova concluso e non in seconda fascia di istituto senza nessun tipo di prospettiva e di carriera. Ecco, su questo fronte cosa avete intenzione di fare? Allora, è anche questa una delle situazioni paradossali italiane, per cui esiste una situazione di fatto e ciò che delle persone abbiano insegnato per molti anni è una situazione di diritto legata al fatto che queste persone non avevano tecnicamente il titolo di studio per poterlo fare. Quindi, di nuovo, ci si ritrova a dover gestire queste situazioni, queste cancrene, anche queste giuste rivendicazioni da parte di una parte importante nel nostro mondo della docenza. In questo decreto legge che è stato approvato la settimana scorsa noi non abbiamo portato la questione dei diplomati magistrali anche perché non si è trovato la convergenza tra le forze di maggioranza. Esistono in questo caso, come voi immaginate, due mondi interessati. Cioè, chi è in cattedra oggi e rivendica la possibilità di esserci e chi vorrebbe esserci e non c'è. Quindi rivendica la possibilità, anche a fronte di un titolo di studio, di poter insegnare. In questo caso, scusi se l'interrompo, abbiamo tantissimi laureati in scienze della formazione primaria che a loro volta premono e quindi a loro volta hanno le loro ragioni. Tutti hanno le ragioni. Chi ha un precariato storico e ha esercitato la professione per molti anni, chi ha studiato e giustamente vorrebbe poter insegnare. Quindi qui, da legislatore, bisogna agire sempre con equilibrio. Noi l'anno scorso abbiamo fatto una deroga, una proroga, alla scadenza per le diplomate magistrali, fino al 30 giugno di quest'anno. Le sentenze del Consiglio di Stato sono arrivate dopo e quindi cosa sta accadendo? Quello che mi preme di più, non soltanto la vicinanza alle persone che rischiano di perdere il lavoro, ma anche il rischio di poter interrompere la continuità didattica perché persone che in questi mesi si trovano in cattedra potrebbero essere licenziate in virtù dell'applicazione delle sentenze. Noi le sentenze dobbiamo applicarle. Io confido molto in questa fase di conversione del decreto legge dove secondo me si potrà trovare una convergenza tra le forze politiche e cercare un punto di equilibrio. Devo dire la verità, noi ne avevamo trovato uno. Purtroppo per una questione legata alla fiscalità del nostro sistema nazionale rischiava di generare un costo aggiuntivo per il quale non esistevano le cosiddette coperture perché altrimenti avremmo già individuato la possibilità di risolvere questo problema. Però ora il decreto legge va in conversione. Io mi auguro che si possa applicare o quella soluzione che avevamo individuato o un'altra per fare in modo di garantire da un lato la meritocrazia al tempo stesso la continuità di dati.